All'hotel Federico II di Iesi, la mattinata di lavoro, questo videocorso sulla prevenzione e gestione delle complicanze in laparoscopia urologica, in collegamento via web diversi relatori potranno incontrarsi e confrontarsi sul tema, il dottor Vincenzo Ferrara degli ospedali riuniti di Iesi, qual è l'importanza di una mattinata di confronto come questa? C'è una prima importanza che è quella comunicativa, già il fatto di fare un convegno via web significa in un qualche modo adeguarsi a quello che è la modernità della comunicazione di oggi, riunire specialisti del settore, quindi urologi di tutta Italia, ognuno in una sede diversa, in modo da avere anche dei risparmi economici perché tutti gli spostamenti costerebbero, in modo da avere anche degli specialisti che magari più esperti nel settore che possono non muoversi dalla loro sede e portarci la loro esperienza praticamente a casa nostra così come noi cercheremo di fare portando la nostra in casa loro. Siamo in collegamento quattro sedi, siamo noi di Iesi che abbiamo organizzato il tutto, c'è la sede del Cardarelli, l'ospedale Cardarelli di Napoli, c'è l'ospedale della Virginia Ellina di Roma, l'istituto oncologico e c'è la clinica Pederzoli di Peschiera sul Garda. I riferimenti nazionali di trattamenti laparoscopici e quindi di trattamenti di chirurgia mini-invasiva, delle tecniche che non prevedono più delle incisioni chirurgiche traumatiche perché sono delle ferite ampie, ma usare praticamente degli accessi, delle piccole incisioni degli orifizi sull'addome per poter introdurre prima di tutto un'ottica che consente di magnificare le immagini interne e quindi di poter meglio vedere gli organi e quindi meglio separarli e meglio anche essere precisi nell'asportare la patologia di cui il paziente è affetto. Dall'altra parte queste minime incisioni consentono anche, penso sia intuitivo, che il paziente abbia meno dolori, abbia meno fastidi, possa recuperare molto prima la sua attività di relazione o lavorativa. Soprattutto vogliamo parlare e confrontarci sulle complicanze che possiamo avere in sala operatoria. Queste complicanze sono il centro del nostro dibattito odierno in cui vogliamo confrontare le rispettive esperienze per poterci correggere e per poterci arricchire di nuovi trucchi o di nuove esperienze.